Avevano rischiato la vita per bloccare e mettere in sicurezza un tir in autostrada guidato da un uomo ubriaco. Saranno tre gli agenti della polizia stradale che riceveranno il premio Eroi per la sicurezza. Il riconoscimento verrà consegnato domani in occasione della partenza del Giro d'Italia a Porto Sant'Elpidio. I fatti che li riguardano risalgono al 16 luglio dello scorso anno quando alla sottosezione di Fano era arrivata la segnalazione di un auto articolato che procedeva a zigzag lungo l'autostrada. Il mezzo pesante stava sbandando e invadendo le tre corsie di marcia. Nel percorso aveva anche urtato la volta di una galleria procurando danni strutturali. L'intervento della polstrada era stato particolarmente pericoloso sia per la pattuglia che aveva agito a traffico aperto sia per gli automobilisti che in quel momento percorrevano la 14. Riusciti a fermarlo non senza difficoltà gli operatori avevano accertato che il conducente era in forte stato di ebrezza alcolica e per questo era stato denunciato all'autorità giudiziaria con il ritiro immediato della patente di guida oltre alla procedura per l'addebito dei danni causati. Il premio Eroi per la sicurezza che è giunto alla sua nona edizione si affianca agli eventi collaterali che accompagnano la carovana. Si tratta di una iniziativa finalizzata a valorizzare l'operato degli agenti che si sono particolarmente distinti nelle attività di particolare rilievo o quelle di soccorso. Infatti la cerimonia ha l'intento di sottolineare l'impegno e la professionalità di tanti operatori della polizia stradale e della società autostradale che quotidianamente garantiscono la sicurezza degli utenti della strada anche mettendo a rischio la propria vita.